buongiorno a tutti sono giuseppe viani fondatore dell'azienda agricola secolo 21 oggi vi vorrei parlare dei nostri oli che sono tutti dei monocultivare tipici della nostra zona val di notto che sono veramente un'esperienza gastronomica incredibile abbiamo tre monocultivare l'oliva moresca la bianco lilla e la nocella alla ribellice che presentiamo in tre diversi colori perché ogni colore rappresenta il cibo a cui associarlo verde le verdure il rosa la carne e l'azzurro al pesce con il nostro olio abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti a livello internazionale sia parigi sia il giappone vincendo medaglie d'oro e medaglie d'argento è molita freddo abbiamo la raccolta e in tre ore le olive vengono lavorate e otteniamo il nostro olio che nel caso della moresca e del bianco lilla è un igp sono tutti oli organici cioè biologici come molti dei nostri prodotti se vuoi vedere qualcosa di più su quello che noi produciamo collegati al nostro sito www.seccolo21.it